L'intervista, un podcast di Giovanni Certomà, notizie, approfondimenti, attualità. Un saluto e un abbraccio a tutti gli amici che ci seguono in podcast e in videocast, una puntata speciale dell'intervista di questo spazio dedicato alle storie del giropodistico internazionale di Castelbuono che ricordiamo per i pochissimi che non lo sapessero è la corsa più antica d'Europa, la corsa su strada più antica d'Europa, nata nel 1912, praticamente siamo arrivati a 97 edizioni, si svolge a Castelbuono all'interno di questo straordinario parco delle Madonie in occasione proprio della festa di Sant'Anno, tant'è vero che viene definita questa gara a Cursa. Oggi ospite di questa puntata un carissimo amico, io quando arrivo ogni anno a Castelbuono vedo Michele Spallino e per me rappresenta simbolicamente quello che è il giro di Castelbuono, cioè passione, dedizione, laboriosità silenziosa senza esibizionismi particolari, che poi sono dei tratti, degli aspetti che contraddistinguono un po' tutti i cittadini di Castelbuono, tant'è che io ormai quasi mi sento un cittadino di questa comunità anche perché sin dal primissimo anno in cui sono arrivato sono stato accolto come se fossi già nato a Castelbuono e la cosa straordinaria è che questo non accade solo a me ma a tutti coloro i quali arrivano a Castelbuono, quindi vuol dire che non è un'eccezione ma una sorta di regola. Michele Spallino è omonimo di colui che ha retto il giro di Castelbuono per 40 anni, stiamo parlando di Totò Spallino, infatti il giro di Castelbuono viene quasi identificato con questa immagine dell'organizzatore Totò Spallino con il megafono Totò Spallino che ha coordinato tutta la macchina organizzativa dal 1937 fino all'anno in cui è morto, nel 1977. e tu Michele sei omonimo perché non sei parente ma fai parte del gruppo potistico atletico polisportivo Castelbuonese che organizza il giro e sono sicuro che tu di storie legate al giro ne hai veramente tante da raccontare perché segui il giro da quando Michele? Io seguo il giro dal 1994, da quando l'ha preso proprio in mano il gruppo atletico polisportivo Castelbuonese perché prima era organizzato dalla buonanima di Totò Mazzola che ha succeduto praticamente a Totò Spallino nel 1977, dalla morte di Totò Spallino dal 1977 fino al 1994, nel 1994 è entrato questo nuovo gruppo, il gruppo atletico polisportivo Castelbuonese e io sono stato coinvolto da questo gruppo praticamente andando a prendere un atleta a Palermo e ritirando delle coppe da Palermo e organizzando lo spugnaggio e quindi ormai dal 1994 a oggi che sono ben 30 anni, 30 anni che sono all'interno del gruppo atletico, 30 anni che organizzo il giro podistico e sono uno dei più vecchietti con Tommaso Raimondo e Giovanni Di Liberti, sono il più vecchio ormai organizzatore del giro podistico. Ti ricordi il nome di quell'atleta che andasti ad accogliere e a prendere quella prima volta? Ricordo che correva per la polizia di Stato, non ricordo il nome, onestamente non lo ricordo, però correva per le fiamme oro Padova, era un sardo, però non ricordo come si chiamava. Tu da ragazzino seguivi però il giro, no? Sì, io ho iniziato a seguire... Sei stato un maratoneta? Dopo, questo dopo, a me è sempre piaciuto, io ricordo che a 10 anni seguivo il giro podistico, mi mettevo in Piazza Margherita, scappavo dalla manina di mio papà e mi mettevo quasi all'arrivo perché il mio posto era lì all'angolo tra Piazza Margherita e via Roma, seguivo il giro podistico da quel posto sempre. Ricordo che sono stati gli anni di Franco Fava, di Zaccone, di Pizzolato, erano questi gli anni che praticamente sentivo questi nomi e poi c'era pure, che era praticamente il mio idolo, un certo Michele Cinà, che correva per il Cus Palermo ed ero innamorato della sua divisa. Quei sono i miei primi ricordi del giro podistico. Giro podistico, Michele, che parte con la partecipazione soltanto agli atleti siciliani. Nel corso di questa rubrica Storie del Giro abbiamo intervistato anche persone che sono state vicine a Totospallino, mi ricordo colui che in quel periodo cruciale faceva il suo autista. Sì, il signor Prestiani. Prestiani, ecco, della decisione di Totospallino, di come lui andasse proprio personalmente a contattare gli atleti siciliani a portarli. Poi si è passati a una dimensione nazionale e poi è stato proprio lui il primo a dargli il respiro di internazionalità quando sono arrivati i primi atleti stranieri a Castelbuono. Te ne ricordi qualcuno? I stranieri, ricordo i primi che combattevano con Bettiol, un certo Kip Sang che arrivava sempre secondo. Ricordo un'intervista in italiano strano. Arrivo a Castelbuono sempre secondo. E questo è quello che mi ha colpito. Mi ricordo dopo, nell'89 praticamente, perché è stato l'anno dell'ultimo italiano che ha vinto, ricordo Kip Sang, questo atleta che arrivava sempre secondo a Castelbuono. e per due o tre anni di file è arrivato secondo. Per chi non sapesse il circuito del giro, tu prima hai nominato Piazza Margherita, che è il salotto di Castelbuono, e in Piazza Margherita è posizionato l'arrivo e la partenza, quindi si parte da Piazza Margherita, si attraversa via Roma, si fa questa mitica e fatidica via Mario Levante che mi sembra sia leggermente in salita, o sbaglio Michele? No, è abbastanza dura come salita. Io ho fatto dei test prima, non ho mai partecipato al giro podistico. Come hai detto tu, ho fatto praticamente una decina d'anni da amatore e per questo sono stato tirato all'interno del gruppo atletico, perché è appassionato di atletica, appassionato di corsa, mi hanno chiamato e quindi ho dato il mio contributo. L'ho provata e non mi nascondo, ho fatto i miei sei giri, sette giri all'ora come test ed è abbastanza dura, dura da atleta, è duro pure organizzarla, ma da atleta non mi nascondo che è abbastanza dura. Beh, su via Mario Levante, su quella salita c'è un punto proprio di spugnaggio, no? Lo spugnaggio viene fatto praticamente all'inizio della salita, quasi praticamente in via Roma, alla fine di via Roma si mette in via Mario Levante. Dice lo spugnaggio che in alcuni anni è stato abbastanza determinante, perché con il caldo, sappiamo benissimo che si fa il 26 di luglio, alcune volte ci sono pure 40-40 gradi per correre gli atleti hanno bisogno proprio di idratarsi, perché è abbastanza faticosa. E dopo Mario Levante si arriva in piazza San Francesco, via Cavour, via Vittorio Emanuele, piazza Matteotti e Corso Umberto, che poi riporta in zona partenza-arrivo, in piazza Margherita. Per un totale di quanti giri? Sono 10 giri per un totale di 11 chilometri e 300 metri per l'esattezza. Questo negli ultimi 25 anni, perché prima il giro podistico era di 10 chilometri e 500 metri, perché non si faceva il giro della Fontana, e quindi era praticamente il giro corto, noi lo chiamiamo il giro corto, che da Corso Umberto prima si passava direttamente a via Roma, ma non valorizzando piazza Margherita, che era il cuore palpitante di Castelbuono. Tutto questo per essere in linea con gli standard degli AF, ricordiamo, il giro podistico di Castelbuono è inserito proprio in questo circuito di corse storiche a livello mondiale, tant'è che qualche anno fa è stata apposta proprio su quella bellissima opera d'arte che è stata realizzata accanto a Piazza Margherita, risale al 2013, il monumento al giro podistico. Al giro podistico, sì. Il nome era dell'artista Ettore Maria Merlino con il contributo del geometra Sergio Barreca. E su questo monumento è stata apposta questa palacca, che è un riconoscimento veramente importante del valore storico di questa gara. Sì, certo. È un riconoscimento che la World Athletic ha dato al giro podistico ed è veramente un riconoscimento non indifferente. Una delle più antiche gare al mondo e questo ci enorgoglisce un piccolo paesino della Sicilia che riesce ad organizzare ormai da più di 100 anni il giro podistico. la corsa su strada più antica d'Europa è una delle più antiche al mondo. Tu prima citavi l'ultimo vincitore italiano che è stato il Salvatore Bettiol di professione sarto e nelle ultime edizioni ci siamo andati vicini a un ritorno di un azzurro. Perfetto, con Meucci, con Grippa, con Awani praticamente abbiamo sfiorato il primo posto con un italiano però è abbastanza duro e difficile anche se nell'ultimo periodo stiamo vedendo che gli atleti italiani stanno cercando di mettersi al passo però loro e i keniani gli etiopi viaggiano in un'altra dimensione. Questi atleti africani che sono così forti ed è disarmante anche la loro semplicità e tu da uomo semplice quale sei? Ecco, tra tutti gli atleti africani che sono passati da Castelbuono da quali gesti di semplicità sei stato rapito ti hanno colpito? La semplicità l'umanità anche anche nelle piccole cose nel nel mio modo di fare di offrirgli se volevano magari qualcosa al bar non hanno mai accettato niente di questo però sono veramente quelle persone purtroppo non parlo inglese che alcune volte questo mi 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 crea un handicap io sono sempre stato disponibile a cercare di farmi capire però no tutte le volte in tutti gli atleti che ho cercato di coinvolgere mai e questo mi è rimasto mai nessuno ha accettato qualcosa al bar tranne un bicchiere d'acqua e voi a Castelbuono certo non veramente quando ci si siede in piazza Margherita si fa fatica poi a rialzarsi che arriva sempre qualcuno di voi o qualche qualche altro amico che insomma in quel salotto poi i Fiasconaro che sono degli amici storici del giro non fanno mai mancare il loro supporto assolutamente sono è il nostro salotto la nostra e poi è ogni Castelbuonese ogni ogni turista ogni forestiero che arriva lo vuole far sentire a casa e questo è ancora quel segno di comunità di di accoglienza che si è di disponibilità che si trova ancora nei piccoli centri nei piccoli paesi ed è molto molto bello questo si fa sentire ancora umani Michele cosa è cambiato si è cambiato qualcosa nel corso di tutti questi anni del del giro livello organizzativo insomma complessivo ormai la difficoltà purtroppo a livello cambiato ha cambiato negli ultimi trent'anni sono cambiate tante cose quello che è cambiato purtroppo è ogni anno molto più difficile organizzare per sempre per questioni economiche non abbiamo purtroppo la certezza prima di un budget perché fino all'ultimo arriviamo con l'acqua alla gola e non sappiamo come poter organizzarci al meglio e questo purtroppo è un handicap per il giro podistico per poter organizzare al meglio il giro e questo purtroppo è un handicap beh nonostante questo però insieme al vostro presidente Antonio Castiglia che salutiamo con grande affetto sicuramente si tira avanti e state comunque mantenendo il giro dal punto di vista anche tecnico a certi livelli negli ultimi anni avete deciso in modo ragionato di dare molto spazio all'Europa quindi a molti atleti a molti atleti europei e da Castelbuono negli ultimi anni sono passati atleti spagnoli importanti il campione di maratona di europeo ringer norvegesi come 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 Mohen e atleti atleti e atleti inglesi anche come Emil Kaires questo grandissimo atleta di cui io sono convinto ne sentiremo veramente parlare prossimamente farà la maratona proprio di Londra un atleta seguito tra l'altro dal nostro Renato Canova quindi questa svolta Michele è una svolta che pensi stia dando la possibilità al giro di aprire nuovi scenari anche dal punto di vista non soltanto mediatico ma anche della visibilità del ritorno sul piano anche del turismo perché questo è anche uno degli obiettivi perfetto l'obiettivo è quello di cercare di portare quante più persone a far conoscere il giro podistico è la nostra bella Sicilia è una scelta che abbiamo fatto è Antonio Castiglia come presidente che è lui che si occupa degli atleti e quindi è lui con il supporto di tutti noi che onestamente sta cercando di dare più risalto agli atleti europei Michele tu ricordi Totospallino ho un vago ricordo di Totospallino un ricordo per sentito dire perché lui è morto come ripetiamo nel 1977 io avevo nove anni quindi ho ricordi ricordi vaghi non ho un ricordo vero e proprio di Totospallino l'aspetto unico di questa gara è che c'è una partecipazione di tutta la collettività proprio lungo il tracciato perché tu vedi i suoi balconi gli anziani che seguono cioè aspettano quel quel giorno e c'è anche una fusione straordinaria con l'aspetto religioso sembra un tutt'uno la corsa diventa quasi una sorta di devozione nei confronti di Sant'Anna perfetto infatti è chiamata la corsa di Sant'Anna la corsa di Sant'Anna in dialetto castelbonese c'è un motivo particolare praticamente prima il giro podistico veniva fatto il giorno 27 il 27 che era proprio il giorno dove dove si faceva la processione e quindi c'era un un connubio tra il giro podistico le persone uscivano alle 6 e mezza portavano lì le sedie lungo il percorso calo di pubblico negli ultimi anni è stato anche grazie all'avvento della Rai che abbiamo da 20 anni 25 anni abbiamo il contributo della Rai e quindi le persone stanno comodamente sedute davanti sul televisore però il discorso del pubblico in meno nel percorso è perché prima il giro podistico veniva fatto il giorno 27 e quindi come ripeto le persone uscivano da casa alle 6 e mezza con le sedie si sistemavano e apprendevano i posti migliori tu vedevi bambini vecchie persone di ogni età che si posizionavano lungo il percorso finita la la corsa il tempo di lavarsi di tornare a casa cenare già avevano le sedie e poi c'era la solenne processione che era il giorno appunto come ripeto il giorno 27 oggi abbiamo deciso una ventina d'anni fa di spostare e dedicare il giorno 26 direttamente al giro podistico solo ed esclusivamente al giro podistico e questo ha limitato un po' il pubblico naturalmente lo spostamento è stato quasi necessario per questioni di tipo organizzativo perfetto sì bravissimo Giovanni perché prima il giro podistico era solo ed esclusivamente una macchina con l'altoparlante in giro per il percorso che annunziava agli spettatori siamo al quinto giro siamo al sesto giro e con un furgone che fungeva da palco e gli atleti venivano premiati in piazza Margherita finita la corsa alle sette e mezza otto meno un quarto bastavano tre secondi per liberare tutto il percorso oggi più non è più così perché il giro podistico c'è il palco ci sono le transenne ci sono i cavi della della Rai ci sono tantissime altre cose da sistemare e questo purtroppo un giro podistico che finiva alle otto meno un quarto otto di sera e la processione la solenne processione iniziava alle nove è quasi impossibile impossibile organizzare tutti e due gli eventi tutti e due importantissimi sia la processione sia il giro podistico nello stesso giorno beh tutto quello che hai detto tutti i preparativi è veramente difficile e complicato e io ti vedo sempre in qualunque cosa tu prima citare palco ci sei sempre sempre tu però per chi non fosse mai venuto a Castelbuono io do un suggerimento non venite soltanto il giorno della gara e non venite neanche il giorno prima per chi potesse io suggerisco di vivere a Castelbuono prima del giro almeno tre quattro giorni prima perché veramente si riesce a osservare e a percepire come in quei tre quattro giorni che precedono la gara ci sia e prenda forma piano piano tutto quello di cui tu prima parlavi e si respira veramente l'aria del giro io questa cosa l'ho notata negli ultimi anni e quindi io sto approfittando e arrivo veramente qualche giorno prima per godermi con tranquillità proprio tutti questi momenti che sembrano piccolissimi ma che poi ti lasciano quelli che sono i ricordi almeno per quanto mi riguarda più significativi è così Castelbuono per fortuna rispetto agli altri centri delle Madonio dello spopolamento Castelbuono tutto sommato è un paese abbastanza vivo non va vissuto perché gli appassionati di atletica va vissuto una settimana prima perché effettivamente si sente si comincia a respirare già da una settimana prima magari arriva qualche atleta arriva qualche ospite magari più o meno importante per noi gli ospiti sono tutti importanti però più o meno conosciuto e quindi già comincia a sentirsi l'aria l'atmosfera del giro podistico e il giro podistico io dico sempre che è una qualcosa che non è mio è della cittadinanza di Castelbuono dei cittadini castelbonesi perché ognuno di noi lo sente come se fosse veramente qualcosa di di suo e così cerchiamo di trasmetterlo agli ospiti ai turisti agli amici che poi chi viene a Castelbuono vuoi o non vuoi diventa amico di Castelbuono amico della piazza amico dei cittadini del vecchietto che ti saluta del del bar che ti offre anche il gelato anche se non ti conosce sono gli aspetti di Castelbuono e voi state anche un altro straordinario lavoro perché tu dici il giro non è mio il giro non è neanche nostro di quelli che attualmente costituiscono il gruppo atletico polisportivo castelbuonese ed ecco perché negli ultimi anni io ho visto facce nuove giovani ragazzi insomma il ricambio è già in atto sempre con la supervisione di voi più esperti sì hai detto bene perché come ripeto cerchiamo oggi come oggi è molto più difficile coinvolgere un giovane al volontariato ormai i ragazzi hanno perso lo spirito di aggregazione perché con i social con il mondo che va avanti con questo modo di vivere dell'attaccamento al proprio terra a un ideale a un qualcosa che è nostro noi stiamo cercando di coinvolgere ora abbiamo una decina di nuovi ragazzi che veramente li vedo molto entusiasti molto partecipi noi tu sai benissimo noi siamo un gruppo di volontari oltre a mettere il nostro tempo a disposizione del giro polistico trascurando le nostre famiglie trascurando i figli trascurando tantissime altre cose cerchiamo di dare il massimo in questi giorni diciamo dove possiamo dare dobbiamo dare tutto e stiamo cercando di coinvolgere questi ragazzi che come ripeto li vedo veramente entusiasti di dare il proprio contributo per questa nostra comunità che è Castelbuono e allora Michele ci rivediamo e diamo appuntamento ai nostri amici il prossimo 26 di luglio edizione numero 98 a Corsi Sant'Anna il giro polistico internazionale di Castelbuono eh sì un appuntamento ma non come dicevi tu non il 26 ma magari il 22 23 e poi prolungare fino al 28 quando poi si abbassano le luci sulla festa di Sant'Anna che poi un po' ti viene già il magone e poi devi già cominciare a organizzare per la prossima edizione anche se ogni anno ti dico sempre per me è l'ultimo anno però poi quando passano le stanchette quando passa tutto ci rivediamo il prossimo anno io ringrazio Michele Spallino componente del gruppo atletico polisportivo castelbuonese che organizza il giro polistico internazionale di Castelbuono è stato un enorme piacere rivederti è una chiacchierata splendida dal mio punto di vista è come essere a Castelbuono quando parlo con qualcuno di voi è come essere proprio a Castelbuono e non è soltanto una pura formalità quello che ti sto dicendo e sai conoscendomi che è la verità infatti ma tu sai e te l'ho detto Castelbuono è casa tua quindi tu puoi venire quando vuoi sei sempre il ben accetto come tu come tutti i nostri amici chi vuole venire a Castelbuono ha sempre le porte aperte un sorriso sicuramente a disposizione grazie Michele Spallino e grazie naturalmente ai nostri ascoltatori un saluto e al prossimo podcast arrivederci ciao l'intervista un podcast di Giovanni Certomà notizie approfondimenti attualità